Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio, Agnese e Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, rallentamenti per traffico tra Calenzana e P1 Variante in direzione di Bologna. Infipili per lavori code di un chilometro tra Empoli Est e Ginestra verso Firenze e tra Ginestra e la Strassigna in carreggiata opposta. Ci spostiamo sull'Aurelia dove troviamo carreggiata chiusa verso Roma al chilometro 143 nel comune di Orbetello per lavori di ripristino e pulizia a seguito di un incidente. Deviazioni segnalate in loco con uscita obbligatoria a Orbetello Scalo. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, segnaliamo fino a fine mese cantieri aperti, tra l'altro in via San Leonardo, via Viviani e via Pian dei Giullari. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!